1, via! Partito! 30 secondi 10 secondi Attenzione al countdown! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Via! Partito anche Matteo Laloni E adesso 5, 4, 3, 2, 1 Via! Partito anche Lorenzo Eversi L'ultimo atleta Marco Mappi ha risposto Il santo è arrivato il numero 7 Per caso Rebbi 2, estro La prevedoria Partita al 2 3, 2, 1, via! 10 secondi 10 secondi La partita per Carlotta Calota Maurizio Ad elitesino 4, 3, 1, via! Il piatto in ceramica e poi Monia Baffaille, 5, 4, 3, 2, 1, via! E' partita, Carlotta Cipressi, adesso è... Eccola qua, Monia Baffaille che in ambito giudistico non ha certo bisogno di presentazioni, è stata per tappiare il professionista, questo è il podio, questo è il podio... Che protesta lei? Sì, sì, ci vergogna un po'. Come mai protesta? 4, 3, 2, 1, via! Partita è una cazzo, adesso Martina! Che cazzo ridi! Non mi tocca a sé il po' più. Il mondo regionale è l'Umbria a trenometro per quanto riguarda la categoria allievi, ecco la definizione. 5, 4, 3, 2, 1, via! Vittasi, Amazzola, adesso... Ecco qua, il nuovo campione regionale, Matteo Valoni, a trenometro. Minna, devo fermare niente, no? No, no, vai! 3, 2, 1, via! Partita anche! Partita sarà Bartella, adesso Martina Severo. È riportata da me e mi faccio il po' caldo. Con il torsale 142, Ilenia Pigozzi. Sì, chi ne so? Fausto Filippucci che consegna il piatto in ceramica al vincitore, il omaggio fuoriare, consegnato da Monio Baccailles. Questo è il quadretto dei miei sorgenti secondo anno. Sei in arrivo con il luto... Questa rifondazione? Sì, è... Ciao Martina! Ciao! Perusa! Anche se... Brava! Sì, ciao Fede, ciao, ciao! Saluta la sorella, Giro Rosa! Giro Rosa! 3, 2, 1, via! Enzo! Enzo! La patta della strada! Forza! Sì! Grazie! Dai, è Milano! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Dai, 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 dai! Ciao Mario! Ehi, gli agli... No, dopo... No, dopo, no... No, dopo... Io, attenzione... Sorgi, seppone... Attenzione, alto arrivo, dorsale... vediamo se è lei non lo so porti i bracci della presentatura toscana dai 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 che sei arrivata forza forza dai 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 forza dai non è la mia zia è la mia zia è la vita che riceve l'omaggio floreale e il piatto in ceramica dalle mani di Moria Barcaille questo è il febio della categoria la maglia di campionista regionale Umbra della categoria allieve economico la seconda è l'onora ciabocco della di Federico la vincitrice e Caia Bolognesi nella real tuffeccio di Pilla questo è il febio della categoria dove è il servizio? possiamo fare un applauso? siamo in giro 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 siamo in giro